Mi preparo con voi per il pranzo della domenica Andrò a pranzo fuori con tutta la mia famiglia Per i capelli ho fatto una treccia ieri sera Sono già a posto Inizio quindi dalla skin care Ultimamente sto utilizzando questi due prodotti insieme Di questa marca qui, Florence Vado quindi ad applicare prima il siero alla vitamina C Lascia già la pelle super idratata E non unge Per completare l'idratazione vado ad applicare la crema Con un puntino di crema Ho già idratato tutto il bispo di blush Un vero di cipria per fissare il tutto Una piccolissima codina di liner E un po' di mascara Questa rossetta nude di Bella Oggi Nella tonalità 01 Un po' chiaro ma molto naturale Vado a scegliere i capelli Ok adesso vi mostro cosa mi metterò Adesso lo ho a questo vestitino qui E sotto metterò queste scarpe con dei calosini neri Così sembrano tipo degli anfibie Verrà smorzato un po' l'effetto bambola Infine sopra metterò un cardigan Non mi piace troppo come sta subietro questo vestito Secondo me la cinta doveva abbracciare tutta la vita E per completare il look andrò a mettere questa tracolla nera E questo è il cronito Fatemi sapere se vi piace e cosa ne pensate E io vado a mangiare Ciao Ciao